Get Lucky, la canzone del 2013, Daft Punk, la canzone regina di quest'anno, Vanessa, giusto? Giustissimo, la numero uno. Sei d'accordo, sei d'accordo. Oddio, dobbiamo dire che quando la mettevano sempre in radio, la mettevano un po' ovunque, dopo 6-7 volte che la senti di continuo, non ne temi poi già più. No, però, però, insomma, comunque, però, anche perché secondo me, insomma, c'ho questa idea, eh. Stiamo a sentire tutti, eh. Kevin Farrell, secondo me, non ti disgarba, come si dovrebbe dire, insomma. Qui non è che abbia proprio guastato. Oh, ecco, ecco, ecco. Anche perché la canzone di Daft Punk, ma la canta Kevin Farrell, come vediamo dal video, abbiamo visto dal video. Beh, detto questo, cari amici di Clip, è finito il 2013, ci stiamo avviando, ma siamo avviati nel 2014, Vanessa, insomma, davvero, tante cose abbiamo fatto, non abbiamo fatto rivedere tutti i momenti di Clip più belli, perché ce ne sono stati realmente tanti, che era inutile farle vedere tutti, vi ricordo di... Però, senti, io sono felice di finirlo con te questo anno. Beh, sono contento, mi fa piacere. Senti, ma... Io ho un grande sogno. Bene. Perché io ho tanti anni che ti vedo. Bene, grazie, sono contento. Sono emozionatissima di essere qua con te. Bene, bene, poi vi dico perché sta dicendo questo, vai. E vorrei un autografico. Benissimo. Allora, Cristian Solaini, adesso io lo farei venire qui, perché dice queste cose, lui dice, guarda, digli così, che almeno lui si gasa. No, 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 è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Tanto sarai abituato a farlo. Boh, certamente. Soprattutto, guarda, a Cristian tutti i giorni, perché tutti i giorni faccio anche filmina così per abituare. Ma fa vero a Cristian, ma non lo tirare sempre nel mezzo. Lo tiro nel mezzo perché è venuto lui durante la pausa a dire questo a te. Non è vero, non è vero. Vabbè, 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 comunque. Vanessa probabilmente non la ritroveremo a clip, lo so, siete un po'... Però la ritroveremo in un altro nostro programma, non diciamo quale. Non diciamo, manteniamo il segreto. Quindi la ritroveremo, insomma, va bene, va bene. Allora, detto questo, grazie Vanessa di essere stata con noi. Grazie a te, ma ci possiamo abbracciare? Ma no, meglio di no. Allora, no, perché poi non è bello l'abbraccio in televisione, non fa mai... Però faceva Natale. Sì, ho capito, però è bello più lanciarsi così. Allora, vi lasciamo ai Daft Punk con Get Lucky, la canzone del 2013. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti voi. La prossima puntata torneremo nella nostra classifica originaria. Grazie a Vanessa. Grazie mille a te. E grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.